Siamo a Lecce, siamo appena arrivati con la sveglia all'alba Io ho un papà salentino, quindi Lecce la conosco molto bene Però questo sarà il mio primo weekend da vera turista leccese Inizio subito con un pasticciotto e poi vediamo Grazie, che bello essere qui Sarà un piacere averti inoltre e credito ospite Grazie Speriamo che la sua visita a Lecce, città d'arte del barocco Sia di suo gradimento e che possa portare con sé dei bellissimi ricordi Ne sono certa E qui mi sa che è un cadeau Aspetta che... Il mio memorable moment Non ve lo dico, lo vediamo tra poco Che bello Ecco, questo è il vero artigianato salentino, quindi la carta pesta leccese E tra poco andremo a scoprire anche come si fa una di queste statuine Cioè io a Lecce sarò stata 150.000 volte e non sapevo neanche della tradizione della carta pesta Qui è... puoi vederlo Quindi in realtà lo stile salentino vuole la carta, lo stile napoletano vuole la stoffa, perfetto La porterò a ballare la pizzica pizzica Vedremo compiersi il rito della rinascita Resi dal vortice della pizzica pizzica E ieri sveglieremo la tumultuosa nascita Il mistico tamburello suonerà La realtà col sogno si mescolerà La scena passerà La trance transiterà E lei visiterà la sua interiorità E questo è stato anche il settino cinematografico di importanti film come quelli di Ospite e Cimine Vaganti E ha lasciato le cinture o il musical walking on sunshine Io sto cercando casa a Milano, più o meno la vorrei così Coincidono nella nostra dualità E poi mi bacerà Fresca di verità Presto l'oro del Salento troverà Come stella del mattino brillerà E per me il cuore suo palpiterà La porterò a ballare la pizzica pizzica Vedremo compiersi il rito della rinascita Resi dal vortice della pizzica pizzica Ieri sveglieremo la tumultuosa nascita Buongiorno Voilà Che bello Azzanno un pasticciotto? Se me lo chiedi così Questo è il primo di tanti pasticciotti della giornata Perché oggi andiamo a Galatina E mangeremo pasticciotti tutto il giorno Che lei visiterà C'è uno che mi si presenta con mozzarella di bufala Giuncata, ricotta, pocconcini alla panna Stracciata e la scamorza affumicata E poi miele, dolci tipici, fritte di orto, grano, pucce, pizzi, taralli La stracciata l'ho già detta anche La scamorza affumicata e la giuncata Sono quelle che abbiamo mangiato ieri sera Cioè tipo in aereo mi fermeranno Perché io avrò pasticciotti tipo per tutta Milano Ascalone Ascalone, la pasticceria più famosa di Galatina Compriamo i pasticciotti da portare ovviamente a Milano E ne mangeremo uno per capire se effettivamente E provo Chissà se mi vorrà Chissà se mi amerrà Direttore, è stato un piacere È stato un piacere per noi avervi qua Grazie Spero che possiate tornare Torneremo molto volentieri Dovere un po' il Salento e il Lecce Grazie mille A presto Mangiamo il pasticciotto Ciao